Il Comune fa partire il censimento su tutte le aree giochi della città, un'operazione che in realtà era già programmata prima della tragedia di San Pelino, che ha scosso pure la comunità aquilana, già duramente provata dalla morte del piccolo Tommaso all'asilo primo maggio. Un censimento, una ricognizione per rendersi conto di tutti i parchi e l'area gioco e del loro stato, per capire dove intervenire in modo mirato con sostituzioni e manutenzioni. Siamo coscienti, anche prima che succedessero queste tragedie, sul fatto che i nostri parchi giochi sono sì una risorsa, ma se non curati adeguatamente nel tempo possono diventare anche un pericolo. È per questo che abbiamo deciso già dal mese di luglio, con una determina dirigenziale, di iniziare un percorso per l'affidamento di un censimento di tutti i nostri parchi giochi e delle strutture che sono presenti all'interno dei parchi giochi. Già sul disciplinare abbiamo inserito un tempo massimo di 70 giorni, abbiamo proprio in questi giorni iniziato la procedura di affidamento sul mercato elettronico, quindi sicuramente entro l'anno avremo questo censimento con una scheda per ogni struttura all'interno di ogni parco gioco che ne determinerà lo stato di conservazione, lo stato di usura in modo tale da poter programmare la manutenzione. È in questo modo che cercheremo di uscire dalla logica dell'emergenza che è stata utilizzata fino adesso, perché i nostri interventi purtroppo erano seguenti agli avvenimenti e alle segnalazioni. In questo modo, cercando di programmare in modo adeguato un piano di manutenzione, cercheremo di evitare che il problema si verifica e di intervenire prima per alzare il livello sia della qualità dei nostri parchi giochi che ovviamente della sicurezza. In città sono una cinquantina le aree con attrezzature ludiche, senza considerare quelle di mappe e progetto case. Entro la fine dell'anno, il Comune vuole avere il censimento in mano. Per la ricognizione abbiamo stanziato un importo di circa 17 mila euro. Il censimento riguarderà tutte le strutture, tutti i parchi presenti all'interno del territorio comunale, quindi non solo di quelli cittadini ma anche nelle frazioni. Per il piano di manutenzione, a seconda dello stato di conservazione dei giochi, stabiliremo sul nuovo bilancio comunale le risorse adeguate per poter programmare tutti quanti gli interventi che saranno necessari.